Blockchain Week Row Adesso parliamo di una tematica molto importante per tutti i partecipanti, la cyber security. E lo facciamo con Riccardo Massutti, Cyber Security Service at Bitfinex. Blockchain Week Row Dieci secondi. In questi dieci secondi sono avvenute circa 40 transazioni su Bitcoin, sono stati spostati circa 150 Bitcoin per un controvalore di 4 milioni di dollari al cambio attuale. Immaginate che questi dati finanziari sono stati scritti su un libro mastro decentralizzato, trasparente, che tutti possono verificare. Adesso provate a immaginare in un giorno quanti dati finanziari vengono scritti, visibili da tutti. E questo è un po' il tema di cui vorrei parlare oggi, quindi privacy finanziaria su Bitcoin, miti, tecnologie e problematiche. Io sono Riccardo Massutti, mi occupo di cyber security per Bitfinex. In passato ho collaborato anche con un sacco di progetti open source in ambito Bitcoin, principalmente come Wasabi Wallet, BISC, BTCP server e molto altro. Qua trovate comunque tutti quanti i miei contatti social e anche la mia chiave PGP che potete verificare per comprovare la mia identità e contattarmi in maniera confidenziale se volete tutelare le vostre informazioni. Allora, facciamo un piccolo recap di cos'è Bitcoin. Insomma, è una sorta di network, protocollo, software, decentralizzato, trasparente, dove tutti quanti i partecipanti partecipano, scusate il gioco di parole, in modo trasparente. Tutto è pubblico. Tutta la storia di wallet, indirizzi, di come si spostano i cosiddetti UTXO, quindi degli output di Bitcoin che permettono a Bitcoin di esistere in questo modo rivoluzionario, e tutti lo condividono nel network di Bitcoin. E c'è una bella differenza tra il sistema comunque economico, finanziario, convenzionale rispetto a quello di Bitcoin perché questo è uno screenshot preso dal white paper di Satoshi Nakamoto. E come vedete nel privacy mode tradizionale, della finanza tradizionale, c'è una sorta di barriera tra per esempio la banca e il pubblico, quindi tutte le persone e le entità con cui andiamo a effettuare transazioni. Quindi c'è una sorta di difesa, di layer che ci difende, che ci tutela. Quindi la banca ha comunque una visione a 360 gradi di come noi utilizziamo il denaro, mentre la terza parte, l'esercente, il merchant o quant'altro, vede solo una transazione che arriva verso di lui. Su Bitcoin è tutto diverso. Tutto è pubblico, tutti possono vedere tutto, e l'identità dei partecipanti è messa in sicurezza da un concetto di pseudonimato. Bitcoin non è anonimo. Bitcoin è lo strumento più trasparente che esiste al mondo oggi, digitale. Quindi la nostra privacy è essenzialmente tutelata grazie a delle stringhe alfonumeriche che ci identificano nel mondo di Bitcoin, nel network e nella blockchain di Bitcoin. Qual è il problema? Che certo, noi da indirizzo a indirizzo, da transazione a transazione siamo tutelati, non c'è scritto nel nostro nome e cognome, però se poi incominciamo, per esempio, a dare un collegamento, a mettere il nostro nome, collegare la nostra identità a queste stringhe alfonumeriche, ecco che per un attaccante, per un osservatore esterno è molto semplice eseguire il nostro flusso di denaro. Come l'abbiamo speso, cosa facciamo, cosa ci piace. E ovviamente capiamo bene che col denaro noi possiamo fare un sacco di cose. Possiamo comprare servizi, prodotti, a volte legale, a volte meno. Possiamo magari inviare una donazione a un giornalista che magari sta facendo una campagna contro un governo dittatoriale in qualche parte del mondo. Possiamo magari sostenere delle campagne che sono accadute in Canada in modo circa più privato rispetto a utilizzare comunque il sistema Fiat. Il problema è che quando noi ci mettiamo il nome c'è il collegamento, l'intero concetto di privacy di Bitcoin basato sullo pseudonimato crolla. E quindi, ripeto, la nostra banca ci tutela degli attaccanti esterni, non possono tracciarci, capire come spendiamo i nostri soldi, mentre su Bitcoin sì. E siccome c'è una storia continua tra le transazioni e tra gli indirizzi in cui siamo coinvolti, capiamo bene che magari noi possiamo comprare non so, un asciugagapelli in questo caso, poi spostare il resto che otteniamo per comprare una limonata, eccetera, eccetera, eccetera. E questo è un problema. Cioè, tutto quello che noi facciamo è tracciato. Se ci sono entità che conoscono maggiore informazione rispetto a questi famosi indirizzi, ecco che vedono tutto quello che noi facciamo con i nostri soldi. E una delle regole, appunto, del protocollo di Bitcoin è che una transazione deve riferirsi sembra a quella precedente. Quindi c'è un continuo collegamento tra tutte quante le transazioni che facciamo. Qua possiamo vedere, per esempio, che Joe ha trasferito ad Alice 0.1 Bitcoin, che poi l'ha spediti a Bob, che poi l'ha spediti a GoPesh, eccetera, eccetera, eccetera. Però ci sono anche diversi tipi di transazione che facciamo e in base a come facciamo la transazione noi andiamo a condividere più o meno dati. Questa è la transazione più semplice di Bitcoin, quella che fanno praticamente tutti. Quindi c'è una sorta di input a sinistra, quello rosso, che viene speso, cioè un output che viene speso e diventa un input di una nuova transazione e il destinatario è Bob e poi ad Alice torna il resto. Cosa succede in questo caso? Che Bob non solo può vedere tutta la storia, tutto lo storico e come Alice e da chi e quando ha ricevuto dei Bitcoin su quello specifico indirizzo, ma può anche tracciare tutto quello che farà in futuro con quello indirizzo a sinistra e con quello indirizzo a destra, che è il resto. Non solo Alice, vi ricordate che Bitcoin è trasparente, quindi qualcuno che conosce questa transazione può dedurre chi è il destinatario, chi invece è il mittente che riceve il resto e capire come si muovono i soldi. Un'altra cosa, una transazione formata da più input e un solo output. Quindi c'è una prova matematica, crittografica sicura che Alice possiedeva tutti quegli indirizzi, tutti quei Bitcoin e io posso vedere in tempo reale, tutti voi potete vederlo, cosa ha fatto Alice prima di quel momento. Non solo, ricordatevi anche cosa farà in futuro. Un'altra transazione, Alice spende, crea più output. Quindi capite che in base a come voi fate transazioni su Bitcoin, condividete una marea di dati incredibili, enorme secondo me. E dovete stare molto attenti, perché questi dati rimangono scritti in un libro master indelebile. Se veramente noi crediamo in Bitcoin, probabilmente tra 150 anni sapremo ancora che Marco in quella data ha comprato una limonata. e il problema appunto è che c'è uno storico, quindi tutte le persone coinvolte nelle transazioni successive possono vedere cosa è successo prima e questa cosa poi si propaga in più blocchi. Quindi ragazzi, veramente è una cosa infinita. Noi adesso, se vogliamo, possiamo prendere un indirizzo in particolare e tornare indietro nel tempo fino alla transazione Genesi, la prima transazione che è stata Toshinakamoto inviato dal Finney. E questa cosa però può sembrare magari solo un numero di, una serie di caratteri alfanumerici, strani, lunghi. In realtà noi possiamo visualizzare le informazioni della blockchain. Questa per esempio è la famosa pizza del Bitcoin Pizza Day, fatta da Laszlo nel 2010 mi pare. E noi sappiamo che Laszlo in quel caso ha preso centinaia di input, li ha messi assieme e ha speso per creare un output da 10.000 Bitcoin. E questo è quello che è successo. Quindi vediamo essenzialmente tutti questi pallini, che convergono e poi si spostano verso un nuovo output. Oppure appunto, possiamo anche vedere come quei famosi donatori di una campagna famosa in Canada un po' di mesi fa hanno speso i Bitcoin. Come li hanno spostati? Questo è per esempio la visualizzazione grafica delle donazioni fatte al Freedom Convoy Track. Quindi probabilmente sapete di cosa parlo, non voglio entrare in termini politici, però questo fa capire che in realtà le persone che hanno donato per quella causa pensavano di farlo in modo privato, ma non è così. E non solo. Poi anche quelli che hanno ricevuto le donazioni erano spese in un modo particolare. Io posso tracciarli, posso vedere cosa è successo. E non solo, posso anche vedere cosa fanno i criminali con Bitcoin. Ripeto, tutto trasparente. Quindi se pensate che veramente Bitcoin sia anonimo vi state sbagliando completamente. Questo è il modo in cui è stato tracciato appunto un ransomware di un paio d'anni fa. Vediamo che una parte si è spostata in un darknet market, una parte in un exchange, una parte in un altro exchange. E ovviamente se l'hacker o il gruppo di hacker nell'exchange ha fatto KYC, capiamo bene che tutto il castello di privacy di Bitcoin crolla. Ma come possiamo fare a tracciare le persone su Bitcoin? ci sono molte euristiche che vengono chiamate, supposizioni. Non c'è una scienza perfetta. Io posso dedurre delle cose in base a come appunto gli utenti utilizzano Bitcoin. Per esempio, l'euristica principale è che tutti gli input appartengono alla stessa persona. Quindi se voi spendete per esempio tre input, sono tutti vostri, io posso, cioè sono sicuro, posso dedurlo, che appunto siano vostri e posso vedere cosa avete fatto in precedenza. poi posso anche vedere il resto. Quindi se voi inviate per esempio a Bob un Bitcoin e vi torna 0.5 di resto, appunto, sono abbastanza sicuro anche come osservatore esterno che il resto in particolare è vostro e posso tracciare le finanze e i movimenti finanziari che farete dopo quella transazione a Bob. Posso anche supporre in base a comunque al fingerprint, quindi alla impronta digitale del vostro wallet. Se per esempio so che un wallet si comporta in un certo modo, usa certi indirizzi, allora quella è un'altra informazione che io attaccante posso usare per tracciarvi. Posso anche dedurre che se inviate per esempio un, fate una transazione in Bitcoin con un numero tondo, probabilmente quello è quello che volete inviare al destinatario e il resto che magari ha numeri un po' strani con 1, 2, 3, 5, 8, 9, quello sarà appunto il resto. Quindi vedete, dati su dati su dati che io se sto attento e guardo la blockchain posso un attimo sfruttare per invadere la vostra progress finanziaria. Input che non sono necessari, quindi magari un wallet si comporta in un modo non corretto e quindi condivide troppe informazioni. Se per esempio inviate a un indirizzo diverso rispetto al vostro, se ci sono dei bug, se non c'è resto, se riutilizzate indirizzi. E questo è come io posso essenzialmente tracciarvi lato blockchain in base semplicemente a quello che accade nella blockchain. Posso immaginare come vi muovete. Però poi posso anche cercare di tracciarvi sfruttando il network. Quindi sapete bene che se non avete un full node voi dovete chiedere informazione all'esterno. C'è un collegamento, i dati non ce li avete in casa e quindi condividete dei dati. Quindi per esempio se siete i primi a fare una transazione e a fare nel broadcast probabilmente siete quelli che l'avete creata perché siete gli unici che la conoscete. O siete il mittente o il destinatario. Poi anche se voi per esempio cercate un indirizzo su un blockchain explorer perché magari volete capire se veramente avete fatto quella transazione o avete ricevuto quei bitcoin se siete prima a cercare quell'indirizzo o siete mittenti o destinatari. E io vedete posso collegare questi dati e cominciare a estrapolare informazioni finanziarie su di voi. O ancora simplify primary verification quindi avete Electrum per esempio avete Ledger Live avete qualsiasi software che vuole senza un full node e voi andate a comunicare in questo esatto momento tutti i vostri indirizzi e una terza parte. Lo fate magari con il vostro IP se siete più fortunati lo fate tramite Tor quindi c'è un po' più di privacy però ripeto questa terza parte sa che voi possedete tutti questi indirizzi e da là può incominciare a giocare con l'analisi della blockchain per tracciarvi al meglio. Io posso anche pensare per esempio in base a come voi vi spostate nel network di Bitcoin a come spendete quando dedurre chi siete per esempio questo è il wallet di Bitfinex il cold wallet di Bitfinex ma fingiamo che sia magari il cold wallet di Mario io posso vedere quando è stato utilizzato la prima volta quell'indirizzo quanti Bitcoin hai ricevuto quanti rai inviati quante transazioni come è cambiato il balance in Bitcoin nel tempo posso vedere le attività temporali e questi sono dati pubblici tutti possono vederli non è che devo fare cose strane o non lo so cercare di rubarvi qualcosa questo è tutto pubblico posso vedere esattamente quando avete ricevuto qualcosa e quando l'avete inviato in un modo grafico comprensibile che non siano solamente numeri e parole posso vedere anche il volume quindi che tipo di utenti siete siete delle whale siete dei piccoli investitori siete magari un merchant posso dedurre tutto o ancora posso capire quando fate le transazioni quindi per esempio se vedo che il picco viene dal 3pm sia in arrivo che in comunque in invio allora magari posso dedurre che voi vi trovate in Europa ok se entra l'opera summer time adesso per esempio quindi vedete grazie a tutti questi dati che condividiamo in tempo reale tutti noi noi potenzialmente stiamo veramente mettendo rischio la nostra privacy dovete immaginare che ogni volta che fate una transazione su bitcoin è essenzialmente come andare in giro per le strade di Roma con un portafoglio con il vostro portafoglio in testa pieno di soldi magari se siete fortunati e in fronte con scritto quanti soldi ci sono dentro è una pazzia giusto cioè non lo farebbe nessuno però questo è esattamente quello che facciamo tutti noi io non ho bitcoin però chi ha bitcoin magari lo fa e capite che è una pazzia secondo me quindi le persone gli sviluppatori di bitcoin hanno cominciato a dire cavolo ma come possiamo tutelare la nostra privacy finanziaria su bitcoin sfruttando regole del protocollo senza creare cose complicate e sono nati insomma i cosiddetti mixer quindi proprio degli shaker dei mixer dei blender non so come chiamarli che essenzialmente prendono tante transazioni le mescolano tra di loro cercano comunque di migliorare la promessa degli utenti inizialmente questa cosa qua veniva fatta in modo centralizzato c'era una terza parte che prendeva i bitcoin faceva quello che doveva fare poi le rispediva indietro ovviamente a bitcoin non piacciono le terze parti nessuno piacciono le terze parti vogliamo qualcosa di decentralizzato non vogliamo che una terza parte prenda i nostri bitcoin e scappi per esempio col malloppo e appunto sono nati i coin join coin join essenzialmente è una transazione molto molto grande formata da tanti partecipanti che si mettono in comunicazione in modo decentralizzato e vedete che sì io posso dedurre per l'euristica di cui ho parlato prima tutti i partecipanti cioè tutto pubblico ok però le regole del coin join prevedono che ci siano una serie di output a destra tutti uguali di ugual denominatore per esempio da 0.9 o un BTC e vedete che voi da osservatori esterni non riuscite veramente a capire a quali input corrispondono a quali output e viceversa quindi tutti quegli output grigi scusatemi sono indistinguibili tra di loro e questo vi permette di ottenere maggiore privacy anzi vi permette di ottenere pliable denability in questo caso nessuno nessun attaccante nessuna entità terza o anche interna il coin join può dire con certezza dove vi siete spostati nella blockchain però vedete facendo dei calcoli matematici riesce a capire qual è il resto per esempio il 0.1 BTC probabilmente è appunto sempre comunque legato all'utente rosso quindi vedete ricordatevi il resto quella è una cosa molto molto rischiosa però tutto il resto cioè scusate tutti gli altri output grigi quelli sono indistinguibili quindi quelli sono veramente anonimi hanno riacquistato privacy dato blockchain e ieri Giacomo parlava appunto di questo tema e poi mi sono anche arrabbiato con lui ho detto cavolo ma potevi fare un po' di pubblicità al speech di oggi invece no lì ha buttato solamente la cosa e oggi lo riprendo io quindi volevo parlarvi un attimo di come tutelare la vostra privacy utilizzando strumenti o comunque wallet software gratuiti open source essenzialmente le due principali i due principali software di referenza di CoinJoin sono Wasabi Wallet e JoinMarket e andremo un attimo a studiarli assieme velocemente perché mi piacerebbe insomma farvi capire che ci sono già gli strumenti adatti che chiunque può utilizzare per migliorare la situazione che è veramente veramente brutta essenzialmente JoinMarket cos'è? è una sorta di network decentralizzato composto da market maker market taker che permettono di riacquisire privacy con dei CoinJoin il pros appunto è che è decentralizzato ha un sacco di volume e liquidità ed è molto 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 veloce i contro quali sono? che dagli screen capiamo che non è molto user friendly quindi la curva di apprendimento è abbastanza lunga anche se pian piano stiamo migliorando tutto richiede un full node quindi questa è una cosa molto importante quindi di JoinMarket non potete utilizzarlo se non avete un full node cioè a prescindere da ciò se non avete un full node io credo che non potete avere privacy su Bitcoin quindi se avete voglia di spendere un po' di tempo per capire come lanciare un full node fatelo perché vi permetterà di essere molto più tranquilli non solo oggi ma per tutto il resto del vostro viaggio nel mondo di Bitcoin il rischio di Sibili attacca enorme essendo quindi una cosa decentralizzata chiunque può fare da market maker chiunque può mettere liquidità nel sistema aiutare gli altri utenti però se io sono un attaccante metto un sacco di liquidità e fingo di essere per esempio dieci persone diverse capite che magari Mario o Marco fa un coin join con me e in realtà crede di farlo con me e altre quattro persone ma sono sempre io quindi questa cosa qua esiste ed è realistica e va considerata il rischio di Sibili attacca enorme quindi come facciamo a tutelarci da questa cosa facciamo più round di mixing facciamo più coin join e appunto il costo probabilmente si è più alto quindi quello che noi guadagniamo di privacy e dell'animato comunque lo paghiamo poi c'è Wasabi Wallet che è diverso Wasabi Wallet è sempre un software open source sicuro privacy oriented è un po' più user friendly a breve comunque verrà lanciata anche la versione 2.0 non richiede un full node in questo caso sfrutta delle tecnologie troppo tecniche pallose non possiamo parlarne oggi perché se no dopo mi chiamano mi fanno uscire mi dicono guarda che è troppo tecnico quindi cercherò di non parlare di cose troppo troppo tecniche c'è un costo minore comunque di coin join c'è una minore possibilità di simile attack perché è centralizzato c'è un coordinatore che essenzialmente coordina questa grande transazione chiamata coin join e prende delle fee quindi io non posso aggiungere liquidità io posso solamente fare coin join con gli altri non guadagnarci nulla lato economico finanziario però guadagnarci lato privacy il problema è che essendo comunque una entità centralizzata c'è un'azienda dietro attualmente e potrebbe e adesso è iniziato anche a fare censura blacklisting c'è un minimo attualmente sempre che è 0.1 BTC che cambierà con l'imminente rilascio di wasabi 2.0 e i round di coin join sono più lenti quindi queste essenzialmente sono attualmente le uniche due scusatemi referenze di coin join accessibili semplici da utilizzare circa che hanno senso di essere utilizzate però ricordatevi che anche se voi utilizzate il miglior strumento non ci sarà mai nulla che vi darà massima sicurezza o privacy questa è una cosa che chi mi segue in giro per i social sente in continuazione la privacy come la sicurezza non è un acquisto ma è un processo quindi non ci sarà nulla che vi darà massima privacy o sicurezza quindi quello che dovete fare voi è sì sfruttare questi software queste tecnologie però tenere a mente comunque le regole di cui vi ho parlato prima le famose euristiche che vi permettono di tracciarvi questo per esempio è lo screenshot di un utente di join market che ha cercato di guadagnare privacy ma facendo delle cose sbagliate con i resti con UTXO eccetera comunque ha permesso di costruire tutto il suo storico o ancora i famosi hacker di Bitfinex che hanno rubato una cosa come 120.000 bitcoin hanno utilizzato anche loro diverse tecnologie tra cui Wasabi per cercare di fare money layering quindi nascondere comunque lo spostamento di bitcoin però hanno fatto anche loro degli errori in questo caso ricordatevi erano protetti dell'absorbidimato hanno cercato di fare money layering con Wasabi wallet però dopo hanno avuto l'idea geniale di legare alcuni output anonimizzati facendo anche degli errori lato blockchain magari la loro identità magari a delle gift card di Uber di Walmart di Hotels.com di Playstation quindi vedete hanno sì cercato di scappare dalla legge però dopo fortunatamente sono stati beccati e vedete qua il problema però è stato che loro semplicemente hanno legato la loro vera identità a questo storico di coin join il post coin join credevano di essere al sicuro ma non lo erano o ancora questo è l'hacker della DAO nel 2016 mi pare Ethereum è appunto è stato hackerato sono state sfruttate alcune regole scritte male di Ethereum e un genio è riuscito a ottenere un sacco di Ether della criptovaluta di Ethereum e insomma ha cercato poi di capitalizzare la cosa quindi di vendere fare transazioni insomma fare cash out tra virgolette lui qua anche lui ha utilizzato Wasabi wallet e vedete per esempio quello in alto a sinistra è la prima transazione conosciuta di questo utente dentro il mondo di Bitcoin poi ci sono questi grandi pallini blu che sono i coin join ed essenzialmente io sono riuscito poi se volete su YouTube c'è una lezione che ho fatto al Politecnico di Torino un mese fa che mostro passo per passo come tracciare questo hacker qua nonostante abbia fatto coin join però vedete ha cercato di fare tante cose di fare monelayering di scappare però ha fatto una cavolata enorme ha riutilizzato un indirizzo alla fine e in qualche modo vedete quel pallino rosso là con tutte le frecce che portano lui mi ha permesso ha permesso a chiunque in realtà di ricostruire tutta la sua storia e indubbiamente cosa ha fatto lassù insieme a destra ha pensato bene di vendere i BTC su Poloniex facendo che vuoi sì quindi sì tutto perfetto un mega hack che poi non è un hack in realtà un coin join privacy tutto anonimo anonimo e poi va a finire sull'exchange quindi ricordatevi che ogni volta che voi vi fate comunque vi mettete in collegamento con exchange entità condividete un sacco di informazioni su di voi non solo della blockchain non solo di Bitcoin ma anche del vostro IP di chi siete insomma questa cosa crea un collegamento tra le vostre finanze che sono già pubbliche su Bitcoin e questa è una cosa molto molto grave se lo guardiamo dall'aspetto di privacy però siete comunque tutelati dall'obsedonimato se voi rompete l'obsedonimato capite bene che Bitcoin non ha più senso di esistere e non c'è solamente CoinJoin per migliorare la propria privacy c'è anche Lightning Network una nuova tecnologia che ci permette di scambiare valore su un secondo livello dopo Bitcoin in modo comunque molto più privato perché noi non scriviamo transazioni sulla blockchain rimangono dentro questo secondo layer e vengono scambiate tra tante parti e sfrutta un po' il concetto di onion routing quindi essenzialmente Alice per esempio vuole inviare a Derek ok cosa succede che Alice invia Bob e Bob conosce solamente che deve inviare a Carol Carol la stessa cosa cioè onion routing a cipolla a strato cioè Bob non conosce l'origine e la destinazione dei fondi sa solo il prossimo step e quello precedente quindi c'è una sorta di privacy maggiore perché non è come la blockchain di Bitcoin dove c'è mittente destinatario e tutti lo conoscono no qua è molto molto meglio un'altra cosa che si può utilizzare già oggi per avere maggior privacy è Liquid una sidechain federata che ci permette essenzialmente di sfruttare una serie di tecnologie già esistenti anche in altre criptovalute blockchain per esempio la configuration transactions e ciò ci permette per esempio potete vedere che la transazione che vedete sopra è della blockchain di Bitcoin l'ho presa stamattina a caso e vediamo che sono stati inviati 155 Bitcoin sono stati spesi 155 Bitcoin e generati due output invece su Liquid tutto è confidenziale cioè noi conosciamo gli indirizzi ma non conosciamo gli importi e questo ci permette comunque di giocare maggiormente con lo scambio di valore ovviamente questa cosa rimane solo per il layer di Liquid poi noi possiamo poi rientrare in Bitcoin però perdiamo questa funzionalità qua però siamo fortunati e lo dico nonostante comunque secondo me ci saranno tempi molto bui per la privacy di Bitcoin perché è uno strumento rivoluzionario che toccherà comunque tutte le persone del mondo a mio parere prima o poi ci vorrà molto molto tempo è un processo lungo però insomma ci sono molti aggiornamenti molte alternative che stanno comunque per uscire che sono già presenti in questo ecosistema e spero insomma di poterle spiegare a voi anche nei prossimi anni se mi inviteranno di nuovo qua perché credo che valga molto molto la pena fare educazione su questi temi qua purtroppo la maggior parte delle persone crede che sia tutto troppo semplice che noi utilizziamo Bitcoin siamo sicuri siamo onorimi no ragazzi è la cosa più trasparente che c'è e siccome è importante tutelare comunque le proprie informazioni finanziarie perché ci permettono di essere liberi e comunque spostare valore e comunque esprimersi come esseri umani perché alla fine il denaro è energia ecco che cerchiamo magari di farlo senza condividerlo a tutti ma solo condividendolo con l'entità con cui vogliamo condividerlo e grazie a tutti questo mio speech e se avete delle domande sono molto curioso spero che ce ne siano molte mi piacerebbe fare una chiacchierata ciao prima hai fatto vedere quando sono stati tracciati diciamo le transazioni del LAC di Big Phoenix ma chi mi garantisce che magari una di quelle transazioni magari allo stato finale non sia stato un trade OTC e quindi magari poi dopo la causa viene a qualcun altro allora in realtà loro hanno fatto tante cose per fare comunque money layering e nascondere i proventi di illecito dell'AC di Big Phoenix hanno anche utilizzato Wasabi hanno fatto comunque scambio OTC per denaro con tante hanno utilizzato comunque Darknet Market su Tor hanno fatto tante cose e tanti errori in generale proprio questo il concetto che è appena espresso importantissimo come fai te a tutelarti se ho capito bene e dire appunto che quei bitcoin sono tuoi ma tu non sei un criminale questa cosa non puoi farla cioè siccome purtroppo e questo si chiama problema di fungibilità su bitcoin siccome ogni transazione è legata a quella precedente deve essere poi tu dimostrare che non sei criminale questa è una cosa gravissima secondo me è come se domani andassimo magari in un ristorante in una pizzeria pagassimo con una banconota e la legge obbligasse il pizzaiolo controllare lo storico di quella banconota vedere che non sia provento di illecito è una pazzia non può farlo eppure questo è quello che chiedono a noi ed è una cosa impensabile cioè questo problema di fungibilità è importante e va considerato perché i bitcoin hanno uno storico e se quei bitcoin sono stati e lo sono utilizzati anche da criminali perché ripeto se possiamo andare indietro all'infinito ci sarà sicuramente un momento nella storia dei bitcoin che appunto in quel momento è stato utilizzato per uno scopo illecito è inevitabile come accade con i contanti come accade con un sacco di altre cose però vedete magari in quel caso facendo coinjoin tu perlomeno puoi cercare di distanziarti da un illecito avvenuto in passato e high plausible denability si chiama cioè è un un layer in più che ti tutela da questa cosa qua però è un problema serio cioè bitcoin non è fungibile c'è uno storico e capiamo bene che se noi per esempio spostiamo su un exchange dei bitcoin e quelli magari sei passi prima di noi sono stati utilizzati per un illecito noi dopo dovremmo cioè metterci in contatto con l'exchange e fargli capire che non siamo noi criminali questa è una pazzia non possiamo nemmeno farlo e questa cosa accade cioè vi chiederanno sempre di più preparatevi perché è così vi chiederanno sempre più informazioni dell'origine dei fondi dei vostri bitcoin e non potete trovarle quindi vi obbligheranno a condividere un sacco di cose che non dovreste nemmeno condividere con questa entità perché non ne hanno bisogno c'è un problema serio lato privacy e bisogna lavorarci sopra secondo me educando in primis su questi temi facendo capire che coin join non significa illegalità facendo capire che privacy non significa criminalità però secondo me purtroppo oggi troppe persone non considerano questi temi bisognerebbe veramente spingere di più sull'educazione e far capire l'importanza della privacy su bitcoin il discorso che faceva Giacomo ieri che vuoi sì tutte queste cose qua ragazze è importante prevenire è meglio che curare la maggior parte delle persone installa sistemi di sorveglianza in casa o casseforti dopo un furto la stessa cosa per i bitcoiner cioè nessuno prende in considerazione la sicurezza o la privacy finché non è vittima di un hack o di un furto d'entità cerchiamo di essere più furbi e preveniamo come con questo ci sono altre domande? Sì io grazie qua prima fila ok ciao grazie bellissimo bellissimo speech ci hai fatto capire come prendere i nostri bitcoin o comunque i nostri i nostri crypto asset e proteggerci spiegaci magari forse è lo stesso percorso al contrario ma non vorrei poi commettere qualche errore come hanno fatto loro come portarli fuori portarli fuori portarli fuori per utilizzarli nella vita reale beh sinceramente credo che qua aspetti ai merchant cioè se un merchant accetta bitcoin perfetto io credo che l'ideale ma portarli fuori tu devi spenderli cioè cash out ma ci sono tanti modi di fare cash out in realtà potete farlo magari con un exchange centralizzato che quindi ha tutta la storia dei vostri bitcoin e sa precisamente come vi siete mossi o potete utilizzare magari dei network P2P decentralizzati come BISC a cui ho collaborato che mettono in collegamento tanti utenti nel mondo in modo anonimo e possono scambiare comunque bitcoin e altre criptovalute per diversi sistemi di pagamento anche comunque bonifici eccetera 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 gift card o quant'altro cash anche però vedi il problema è che tu non sai mai con chi hai a che fare quindi sai a che fare con un criminale dopo di essere te bravo a dimostrare che ed è un problema sinceramente penso che non dovremmo fare cash out dovremmo spendere i bitcoin capisci cioè l'ideale è che tutti li accettino però ci vorrà tempo ci vorrà tempo e potresti essere tu da oggi stesso magari accettare per i tuoi servizi capisci quello secondo me è l'obiettivo finale di bitcoin bisogna trovare comunque il modo di spenderli senza tornare indietro per tutte queste terze parti centralizzate che non hanno più senso di esistere sono obsolete in bitcoin cioè gli exchange non hanno senso di esistere personalmente i wallet custodian non hanno senso di esistere ragazzi noi possiamo veramente essere indipendenti su bitcoin quello che oggi utilizziamo e esiste è temporaneo tutto tenderà alla decentralizzazione è inevitabile perché quella è libertà capisci cioè il non dare affidamento a nessuno quella è libertà e ci stiamo arrivando pian piano abbiamo capito come farlo con bitcoin lato protocollo dobbiamo cercare di creare veramente delle strutture non legate a questo mondo passato come le aziende le famose DAO decentralized autonomous organizations ci servono ci sono già BISC è una DAO per esempio basata su bitcoin e ci vuol tempo Roma l'hanno stata costruita in un giorno grazie a te qualche altra domanda? sì io avrei una domanda non hai parlato cioè hai citato Lighting Conjoin e Wasabi ma non ti ho sentito parlare di Monero sono qua comunque ok grazie che ne pensi di Monero? ma allora Monero essenzialmente sfrutta delle features di privacy molto importanti tipo le confidential transactions trading lock signatures eccetera 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 roba tecnica il problema è che devi pensare al concetto di anonymity set se tu sei l'unico che utilizza Monero insieme ad altre 10 persone qua dentro capiamo bene che è molto più semplice tracciarti il fatto che bitcoin sia utilizzato da milioni di persone nel mondo ti permette di avere comunque maggior privacy no? perché se sei la pecora nera in mezzo a tutte pecole bianche allora è facile trovarti oppure se sono 5 di pecole nere sia un po' più difficile però capisci che prima o poi ti trovo su bitcoin invece la cosa ha una piega enorme perché ripeto usato da milioni e milioni di persone nel mondo ripeto 40 transazioni ogni 10 secondi miliardi penso un miliardo e mezzo al giorno di volume on chain di spostamento quindi ripeto è facile comunque tracciarti tu devi renderlo economicamente temporalmente e cobutazionalmente difficile da fare creando strade infinite questo lo fai con coinjain oppure sfruttando comunque altre cose come gli swap su Monero per esempio tu puoi fare uno swap su Monero un atomic swap per ritornare su bitcoin e insomma rompi completamente la storia però in quel caso non hai più modo di sapere precisamente quei bitcoin che ti arrivano che storiano precedentemente giusto cioè c'è sempre un trade off ripeto io personalmente credo che si possa avere maggiore privacy semplicemente su bitcoin senza passare su Monero però sfruttando tutte queste tecnologie sicuramente ottieni un buon un buon risultato grazie Riccardo grazie grazie